Ciao! Avanti Mario, saluta tua madre come un vero balino. Ciao mamma! Basta! Ma perché piangi? Perché non vedrò questo bel visino però. L'hanno messa in un campo di concentramento in Germania. È un rischio tenere qui il ragazzo. Ci uccideranno tutti! Qui non si piscia a letto. Chiaro? Le donne sono sempre le prime a morire. È successa anche la mia. Mia madre non è morta! Sono venuta per portarti a casa Mario. In montagna? In America. Sono appena arrivati dall'Italia. Accogliamoli bene, ok? Mario! Mamma non ha mai voluto parlare di cosa le è successo durante la deportazione. Basta! Tornerà mai a stare bene. Ci vorrà del tempo. Mi dispiace ma stavolta sono costretto a espererti. È un adolescente avverso a ogni forma di disciplina. Voglio diventare uno scienziato come te. Così troverò la cura per la mamma. L'America ha mandato i suoi giovani a combattere e morire per la libertà. E lei mi vuole dire che non siamo capaci di educare un ragazzo che ha saputo sopravvivere a questa stessa guerra tutto da solo. Professori Capecchi, Evans and Smithies. Grazie.